Nuovo inquietante attentato a 24 ore da quello indirizzato al sindaco di Rocca Piemonte e in un comune distante appena due chilometri. Nella notte intorno al 1.30 un nuovo boato ha squarciato il silenzio. Una bomba carta esplosa dinanzi al portone della casa della sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara in via Pietro Ferrentino alla frazione Lanzara. L'esplosione ha sfondato il portone d'accesso della palazzina Treppiani, distrutto le cassette della posta presenti ai suoi lati e fatto saltare in aria i due tombini posti vicini all'ingresso. Danni anche alle vetture parcheggiate lì davanti. Sul posto i carabinieri di Castel San Giorgio e Mercato San Severino per i primi interventi e rilievi. Al vaio anche qui le immagini delle telecamere di videosorveglianza, il modus operandi identico, la vicinanza nel tempo e nello spazio dei due attentati, il ripetersi della deflagrazione più o meno allo stesso orario dinanzi alle abitazioni di due rappresentanti istituzionali, fa temere che possa essere stata la stessa mano ad operare. D'altra parte, solo a Natale scorso un'altra bombacarta venne posizionata dinanzi all'abitazione del consigliere comunale di Castel San Giorgio, Giuseppe Alfano, già sindaco e vice sindaco per anni della comunità. Da più parti è giunta la solidarietà e la preoccupazione delle istituzioni. Il senatore Antonio Iannone ha annunciato un'interrogazione al ministro dell'interno Piantedosi. Ho molta fiducia nel lavoro della magistratura, ha detto, ma è bene anche alzare l'attenzione politica. Il sindaco di San Marzano sul Sarno ha chiesto l'intervento del prefetto di Salerno. Sott'attacco, ha dichiarato Carmela Zuottolo, c'è tutto l'agronocerino sarnese. Due bombe in 24 ore non sono un segnale che possiamo sottovalutare. Chiunque sia il mandante, la risposta dello Stato deve essere forte.